Un documento molto raro, viene dalla Germania. Raimondo Dinzeo non vince. Sulla pista coperta di Francoforte, cavalieri di ogni paese sono in gara per il Gran Premio. Dinzeo in sella a Garongerl fa il percorso netto. Ma il tedesco Alvin Schochemöle, grazie al suo vecchio Freyher, lo batte sul tempo. Dopo la premiazione, uno spettacolo eccezionale per i tedeschi appassionati di cavalli. Il carosello dei carabinieri. Noi lo abbiamo visto chissà quante volte, ma ogni volta è come se fosse la prima. Splendido, perfetto, entusiasmante. Il caro dell'imbranza. Nostra, il caro dell'imbranza. Grazie a tutti.